Le notizie delle persone solate, delle persone che fuggono, delle persone morte, persone ferite, di tanti soldati caduti di una parte o dell'altra, sono notizie di morte. Chiediamo al Signore della vita che ci libere di questa morte della guerra. Con la guerra tutto si perde, tutto. Non c'è vittoria in una guerra, tutto è sconfitto. Che il Signore invie lo suo Spirito perché ci faccia capire che la guerra è una sconfitta dell'umanità.